Ciao a tutti ragazzi, sono PeppeGioghever e siamo ritornati dopo tantissimo tempo che non riuscivo a caricare video su minecraft porca vacca mi sono caduta le cuffie e ragazzi, questo non sarà il video del nostro bellissimo mondo, dove cazzo è? dove cazzo è? oh ecco, PeppeGioghever ma sarà su uno mondo e l'analizio e spaveremo un po' i mondi ragazzi un po' i mondi vabbè veramente metteremo facile uscire molto un cavolo partito finale e cominciamo incominciamo e cominciamo con la partita ragazzi benissimo tempo che non carico video guardate che cazzo di pariato allora la mappa è di panni zenzero si, temevo allora guardate la precetta qui davanti è cambiata in questo modo e poi esce la stellina quando mettiamo l'inventario poi guardiamo noi siamo a farsi qui questo è il cazzo questa sarebbe la chest beh giù che box non ci fotte proprio giù che box poi abbiamo tutto qui gli elfi ragazzi guarda allora vediamo che vengono le stesse cose del minecraft normale poi andiamo a vedere lo so che non siamo a natale anzi siamo in estate quindi fuck you bitch quindi vaffanculo tutta la scuola quando sono ritornato a casa ho bruciato tutto quanto tutto c'è tutto 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 a cazzo cioè ma proprio a cazzo perché così la vita allora quindi quasi tutti elfi del cazzo fiume da pedo di merda di panni zenzero e te sempre sti cavolo di lì di merda e qui babbo natale ci dovrebbe entrare no ma non c'entra ma che cazzo di cammino fai voglio sapere che cazzo ma che cazzo guardi allora ragazzi continuiamo lo seguiamo qui no cioè una cosa di merda proprio cioè io la so fare peggio la cosa cioè vabbè apriamo qui che cazzo ma che cazzo ma che cazzo ma come cazzo ma che cazzo boh boh non lo so oh porco guarda qua che pariata c'è una pariata delle pariate di tutte le pariate della ok non diciamo niente che cazzo che cazzo che cazzo è qua sotto boh continuiamo i portoni di due chilo ma che cazzo ma c'è ma vaffanculo i portoni finti così babbo natale eh babbo natale non frasi da nessuna parte chiudiamo qui ok temevo qualcosa ma guardate che cazzo ma che cazzo ma come l'hanno fatto a fare oh merda che cosa ho rotto che cosa ho rotto ma che cos'era quel cosa robot ma che cazzo che cosa sono questi oh che belli eh intanto che ce ne mettiamo qua oh oh no allora lì non so che cavolo c'era forse un quadro vabbè lascia perdere questo dovrebbe essere un altro quadro ehm un affigato questo dovrebbe essere aspettate come si chiamano i cosi che mangia i cavalli infatti il fieno grano che cazzo si chiama per qui una finestra che babbo natale si butta giù e deve solo morire per qui c'era una candelina rossa din 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 no una cannellina di merda cioè 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 cosi una cannellina di merda eeeh una cannellina di merda basta una cannellina di merda quindi c'è o in merda che cazzo me la doro me la me la che cazzo ma che cazzo non si capisce proprio niente vabbè comunque raga non ci ho capito un cazzo di questo mondo di merda un mondo di merda quindi un mondo che noi ne faremo almeno sicuramente non lo so cioè sto cazzo ma che ma che cazzo sto vabbè comunque non ci ho capito un cazzo di questo mondo perché fa letteralmente schifo però continuiamo ma che vabbè dovrebbe essere boh vabbè continuiamo aspetta un attimo eh dove cazzo partono stelo lo taglio beh credo che siano lo taglio infinito comunque se ti muo se ti muo noo avanti 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 noo vabbè 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 che cazzo che pariota non l'avevo proprio visto vabbè 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 wow guardate qui che figata veramente no finito il viaggio no oh che cavolo aspetta scendi 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 che diavolo che cazzo che figata la provagine assurda vabbè si rompita di vero si oh che figata che figata vabbè è figoso ok ragazzi per questo video direi che tutto cioè solo per un video per vedere se i video per il canale si caricava perché io ho una connessione dei popoli cinesi cioè ma di cinesi e ragazzi questo video potrebbe essere anche l'ultimo sto scherzando no e ragazzi per questo video è tutto ciao da Pepe G gamers è tutto ciao 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 ciao